caro diario quest'oggi la giornata non è iniziata affatto bene ero in ritardo per la prima ora a scuola e ce l'avrei fatta ad arrivare puntuale se non mi fossi quasi scontrata con la madammina che era in ritardo anche lei io l'ho lasciata all'entrata di scuola schizzando dentro come un razzo ma arrivata in classe ecco che è apparsa come per magia pugna sei in ritardo mettiti seduta d'accordo bambini oggi si parla di geometria qualche volontario che mi parli dei triangoli ad esempio madameina swarovski prego il triangolo un poligono noto è i cui angoli e i cui lati sono non solo tre la somma degli angoli conta qualsiasi si siano darà di gradi un bel centottanta e questo giammai cambierà con l'equilatero tutti i lati uguali avrò in quello i sosce le due soltanto ed il terzo no e poi c'è quello scaleno di uguali non ne ha due nemmeno rettangolo all'angolo retto che gradi 90 ti dà bene adesso un volontario per i quadrilateri ora il turno sai del quadrilatero che di angoli e di lati sempre quattro ha ma queste sono forme che hanno grande varietà bisogna definire la loro identità se i lati opposti sono sempre paralleli parallelogramma il suo nome quando i lati opposti ed anche paralleli sono due soltanto è il trapezio parallelogramma lati congruenti angoli ben retti è il quadrato parallelogramma lati congruenti angoli non retti è il rombo se gli angoli sono retti lati congruenti sono due a due è il rettangolo questa è la mappa no non la scordare e niente ti potrà ingannar molto bene pugna adesso è il turno del pentagono qualcuno di voi vorrebbe oh madamina prego assolutamente prenderle quel quaderno lo so che è lì tutta la sua magia ho un'idea se un poligono è un pentagono noi potremo contare fra lati angoli diagonali ma sempre cinque lui avrà se un poligono è un pentagono tutto in cinque lui avrà è un poligono regolare fra lati ed angoli a tutto uguale è equiangolo ed equilatero tutto in cinque lui avrà se un poligono è un pentagono tutto in cinque lui avrà se un poligono è un pentagono tutto in cinque lui avrà se un poligono è un pentagono tutto in cinque lui avrà se un poligono è un pentagono tutto in cinque lui avrà pugna avevo chiesto a madamina di parlare del pentagono ma che ti prende quest'anno non è che sei in competizione con la madamina swarovski vero no è lei che non voglio sentire questioni adesso vi stringete la mano oh pugna ne abbiamo di strada da fare ma chi crede di ingannare quella lì l'ho capito che hai poteri magici e non vuole che nessuno lo sappia beh io la smaschererò è la mia missione ma perché non risponde va bene se non vuole uscire con me uscirò da sola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.